Guardate Fortnite, Fortnite Patto Royale, contiene due A, la A è la prima lettera dell'alfabeto, sapete cos'altro arriva per prima? Esatto, la Victory Royale, Victory Royale ha 13 lettere, ci vogliono 10 materiali per fare un muro, 13 meno 10 fa 3, l'IP Games è stata fondata nel 1992, 1 per 9 per 9 per 1 fa 81, 81 diviso 3 fa 27, che invertito fa 72, Donald Trump ha 72 anni, 72 meno 27 fa 45, naturalmente Donald Trump è il 45 diviso presidente, lo SCAR contiene 30 colpi, 45 meno 30 fa 15, ci sono 5 realtà di arte, grigio, verde, blu, viola e oro, le armi d'oro, l'oro è il 79esimo elemento della tavola periodica, 79 meno 15 fa 64, che è che è 8 alla seconda, che è uguale anche a 8 per 8, ma se noi facciamo 8 più 8 fa 16, la sedicesima lettera dell'alfabeto è la P, la P è l'iniziale il presidente, si collega a Trump, il presidente ha 10 lettere, il nominato a 10 lettere, il presidente, che forma, sono i nominati con fan!